Il trattamento adiuvante del melanoma per gli stadi terzi è oramai un punto fondamentale del trattamento dei pazienti con melanoma dopo la chirurgia. Sappiamo che abbiamo tre trattamenti ugualmente efficaci, da Brafrim, Trametinib per i bilaffi mutati, mentre per sia i mutati che i wild type abbiamo sia il Pembrolizumab che il Nivolumab. Tra l'altro all'esimo di quest'anno abbiamo visto i dati aggiornati a 5 anni anche del Checkmate 238, che è lo studio che compare il Nivolumab all'ipilimum, un braccio attivo per i 3B, 3C e i quarti resecati, che hanno confermato quello che abbiamo visto anche nei report precedenti. Quindi confermati importanti, ma anche novità importanti. Infatti, in presidenziale abbiamo visto i dati del Keynote 716, che è il report del primo studio fatto negli stati ancora più precoci, gli stati secondi, quindi senza coinvolgimento linfonotale. Ora una piccola parentesi per gli stati secondi. Gli stati secondi, soprattutto il 2B e il 2C, hanno una prognosi addirittura peggiore al 3A, come il 3B, dove invece noi abbiamo dei trattamenti inadiuvanti. Quindi sono sicuramente dei pazienti che meritano attenzione, per i quali ci sono due studi attualmente in corso, uno il Keynote 716, di cui parleremo breve, e un altro il Checkmate 976K, che compare il Nivolumab al placebo. Bene, il Keynote 716 negli stati 2B ha dimostrato che il Pembrolizumab rispetto al placebo dà una riduzione del rischio di ricaduta del 35%, quindi un dato importante, con un profilo di safety che è esattamente quello che noi abbiamo visto nel Keynote 054, dove il Pembrolizumab è stato utilizzato in confronto al placebo negli stati terzi. Quindi un dato importante che sicuramente cambierà la pratica clinica e che dà un'opportunità in più a questi pazienti che fino adesso non venivano trattati praticamente con niente. Questo sicuramente aumenterà il numero dei pazienti che avranno un beneficio e verranno curati dal melanoma. Quindi, ricapitolando, per il melanoma, trattamento a domanda degli stati terzi e quarto resecati, abbiamo adesso dei farmaci, abbiamo il Dabrafen, Trametin, Pembrolizum, Nivolumab, per i quarti resecati solo il Nivolumab, conferme da questi studi, e in più si aggiungerà, non appena gli enti regolatori lo approveranno, il Pembrolizumab, negli stati 2B2C, perché i dati del 716 che abbiamo visto vanno in questa direzione di offrire questa opportunità importante anche ai pazienti con stati più precoci. Grazie.